Ciao a tutti ragazzi, io sono Kendal, il vostro imperatore, e bentornati in un nuovissimo video della serie dove finiamo tutti gli avanzamenti di Minecraft, versione 1.21. Nello scorso episodio siamo riusciti a completare un po' di avanzamenti, come per esempio aprire la cassaforte con la trial key, craftare un crafter all'interno del crafter, e anche entrare all'interno della prima trial chamber. Ma ce ne sono ancora molti da completare, come per esempio uccidere un Breeze con i suoi stessi attacchi, aprire finalmente l'Ominous Vault, trovare una mazza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ho commerciato con un villager per ottenere la mappa di una nuova trial chamber, che come vedete è lontanissima, quindi probabilmente avremo bisogno di molti razzetti, direi di andare subito verso la mia farm. E inoltre quest'oggi dobbiamo anche cercare l'avamposto dei pillager, in modo da ottenere la bottiglietta di Bad Omen. Infatti ragazzi, nello scorso episodio non me lo ricordavo, ma per ottenere la nuova chiave della trial chamber, dobbiamo completare un ride intero, e ci potrebbe volere un bel po'. Inoltre ragazzi, con il ride, tecnicamente, la trial chamber diventerà ancora più difficile. Infatti nello scorso episodio è stato fin troppo facile, anche perché sono super equipaggiato, e spero che questa volta sia una challenge un po' più complicata. Se non l'hai ancora fatto, lascia un mi piace, mi raccomando, qua ci metto due anni adesso a farmare abbastanza gunpowder per altri razzetti, e poi in realtà ne ho due stack, forse sono anche sufficienti. Che dite, parto così con questi e basta? Ma sì, dai, tanto devo soltanto trovare un outpost prima di tutto. E poi devo cercare di capire dove andare per sbloccare la prossima trial chamber. Gli avanzamenti della 1.21 sono sicuramente più difficili e anche più divertenti rispetto a quelli della 1.20.5. E soprattutto così riusciamo a portarci avanti anche nell'impero craft, perché poi le stesse cose le dovrò fare anche lì. Oh, la mazza io la voglio tenere dappertutto. Solitamente in questi biomi c'è sempre un outpost dei pillager, questa volta no. Ma tra l'altro io questo avanzamento mi sa che lo posso già fare. Aspetta un attimo, proviamoci allora. Torcia la mano. Ecco, qua c'è uno zombie. Tecnicamente l'avanzamento consiste nel saltare più in alto di otto blocchi e poi ucciderlo. Fatto! Let's go! Così almeno ci togliamo quelli semplici subito dalle scatole. Questo invece... Ah, devo ripulire praticamente la lampadina di copper con l'ascia. Ce l'ho un'ascia? Sì che ce l'ho! Bene! Però senza la bottiglietta di Bad Omen non andiamo da nessuna parte. Aspetta, 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 perché nella palude ci potrebbe essere il nuovo scheletro. Non dimentichiamoci che uno degli avanzamenti è quello di uccidere tutti i mostri. Visto che adesso hanno aggiunto lo scheletro dei funghi. Magari qua lo riesco a trovare. Ehm... Non si direbbe. Forse devo andare in una palude più distante da questa. Perché io al momento sto vedendo soltanto scheletri normali. Mi sa che non sono abbastanza lontano. Proviamo a cercarne un'altra. O forse deve essere la palude di mangrovia? No, non mi pare. Eccolo! Eccolo! L'ho visto! Credo di averlo visto se non altro. E lui? Sì, 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 sì! E' il nuovo scheletro? E' lo scheletro fungoso? Che mi spara le frecce di veleno? Muori! E dammi l'avanzamento! Let's go! E siamo a due! Ormai ragazzi sono diventato inarrestabile in questa serie. Ok, e anche questo l'abbiamo completato. Allora, andiamo in ordine. Adesso mi manca. La lampadina. Va bene. Uccidere il Breeze rimandandogli indietro il colpo. Aprire la cassaforte. Trovare la mazza. Oh! Ehi! Se ho molta fortuna posso riuscire a farle tutte in un solo episodio. Ma prima devo sicuramente trovare i pillager. Senza le bottigliette non ha minimamente senso entrare all'interno delle trial chamber. Anche se in realtà a volte te le droppano già nelle trial chamber. Però diciamo che sarebbe sprecato entrarci senza fare partire il ride. Dai, ce ne sarà uno qua da qualche parte. Quando non li vuoi li trovi sempre. Quando li cerchi non li trovi mai. E quello? Ah, è un portale. Ehi, è un portale gigante tra l'altro. Ok, me lo sento. Qua c'è. Sì, 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 sì. In questo bioma lo troviamo. Vero? No! Oh, finalmente! E si sta facendo giorno. Ok, mettiamoci l'armatura. E adesso in realtà mi serve soltanto il loro capo. Ma io ho notato che nella 1.21 è diventato molto più difficile trovare il pillager con il banner. Che c'abbiamo qua? Bottiglietta esperienza. Va bene, lo usiamo. È come se fosse molto più raro adesso. E il che ha senso. Perché appunto lo utilizzi per fare il ride delle trial chamber. Però, cioè, guardate quanti sono. E non ce n'è neanche uno con il banner. Ah, ma ora vi faccio fuori tutti. Adesso vi ammazzo tutti, così vi rigenerate e spunta quello che comanda qua. Muori, muori, muori. Eccolo! È là sotto! Benissimo! Così riusciremo a provare per la prima volta in survival la 1.21 e gli aggiornamenti. Ecco qua la bottiglietta di Bad Omene da 1 ora e 40! No, 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 no. Io gli avanzamenti li finisco ben prima di 1 ora e 40. E così ammazziamo anche la strega, così, giusto per sport. Mi dispiace, ma te ne puoi anche andare. Ok, io adesso devo soltanto andare nella trial chamber. Spero che i razzetti mi bastino. Quindi cerchiamo di capire più o meno da che direzione devo andare, perché qua sono molto distante in realtà. Considerate che questa mappa io non l'ho presa vicino casa. Quindi ora c'è da capire che direzione prendere. Mojang, ti dispiace mettere magari delle coordinate nella mappa, giusto per avere un'idea di dove andare? Non sarebbe male, piuttosto che girare totalmente a caso. O forse quasi quasi mi conviene tornare a casa e poi partire da casa verso il villaggio dove l'ho presa. Sì, credo sia la strategia migliore. Ok, per andare a casa mi basta continuare dritto da questa parte. Ci vediamo dopo. Allora, ho sicuramente bisogno di farmare un altro pochettino di gunpowder. Se no, nelle trial chamber non ci arriviamo. Quindi resto qui una decina di minuti e poi cerchiamo la strada. Ok, così dovrebbe andare più che bene. Andiamo a craftare degli altri razzetti. Allora, io adesso devo cercare di ricordarmi dove l'ho presa questa mappa. Credo che fosse da quella direzione là. Spero di non sbagliarmi, perché altrimenti ci potrei mettere molto più del dovuto. La bottiglietta è qua, sana e salva. Bene. Allora, tecnicamente questa dovrebbe essere la direzione giusta. Quindi devo semplicemente andare avanti adesso fin quando non arriva la trial chamber. Perché come vedete, il puntino nella mappa adesso è fisso. Perché se adesso vado tipo a destra, come vedete va in alto. Se vado a sinistra invece andrà in basso. Quindi la direzione è questa. Devo soltanto proseguire. Sperando che mi bastino i razzetti. Intanto ovviamente si è fatto di nuovo notte. Oh, potrebbe essere qua. Perché fino ad ora due su due le ho trovate praticamente sotto l'oceano. Potrebbe potenzialmente trovarsi qua vicino. Un altro biome dei funghi così totalmente a caso. Tanto ne ho trovati 12.000 in questo mondo. Oh, oh, oh. Aspetta, mi sto iniziando ad allontanare un po'. Sì, sì, sì. La direzione dovrebbe essere questa. È giusta, è giusta, è giusta. Ok, meno male. Dovrebbe essere proprio qui. Siamo arrivati. Scava, scava, scava. Togli l'acqua. Ok, mi rimetto la corazza e adesso andiamo giù fino a meno 40. Spero non sia la stessa trial chamber dell'altra volta, ma tecnicamente è impossibile. Dovrebbero essercene tante. Allora, aspetta, fammi vedere. Siamo nel punto giusto, un po' più avanti forse. Ok, qui dovremmo esserci. Eccola, eccola. Ok, è nuova. Ragazzi, adesso mi devo bere la bottiglietta. Guarda che ci sono addirittura nuovi scheletri. Ok, beviamola così parte tecnicamente il ride. Dai. Trial omen, 14 minuti. Oh mio Dio! Ma questi sono molto più forti rispetto a quelli dell'altra volta. Aiuto, c'è pure il Breeze. Ok, fermi, fermi. Wow, 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 wow. Mazza, le sto prendendo. Chi è che mi attacca in questo modo? Cosa sono questi suoni? Dov'è il Breeze? Si teletrasportano? Si è teletrasportato lo scheletro, ve lo giù. Guarda, guarda. Oh no. Ok, ok. Ok, questo è decisamente più caotico. La difficoltà è aumentata. La difficoltà è aumentata. Muori. Togliamo tutta la spazzatura, così mi prendo i drop. E quando volete morire voi? Porca miseria, mi hanno dato lentezza. Aiuto, 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 aiuto. No, 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 no. Oddio, ragazzo, sto avendo difficoltà. Vi giuro, eh. Mangiala, me la adoro, mangiala, me la adoro. Ma sono tantissimi! Totem. Totem che non si sa mai. Basta, morite! Ok, devo scendere anche qua giù. Dai, 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 andatevene. Porca miseria, ragazzi, che danni! Non me li aspettavo così forti, sinceramente. E basta! E soprattutto, perché non finiscono? Ne ho uccisi tantissimi, dovrebbero essere già finiti i mostri. Ok, questo si è appena chiuso. E non mi dà nulla? Ma come? Dammi i drop, maledetto. Aia. Ok. Ho finito la prima stanza, mi ha droppato qualcosa. Mamma mia, ragazzi, non potevo assolutamente immaginarmelo. Ok, non mi ha dato le chiavi, maledizione. Però, io ne ho altre quattro. Quindi, quasi, quasi, apriamone un paio. Vediamo che cosa riusciamo a trovare. Bottiglietta di miele, scudo, mazza, che schifo. Vediamo dopo essa, che cosa trovo? Altra bottiglietta di miele, un po' di ferro. Nah, inutile, andiamo avanti. Che cos'è questo? Eh? Lo spawner degli slime? Oh, santo cielo. Ok, 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 non dovrebbe essere difficile. Gli scheletri, ragazzi, erano potentissimi, comunque. Restano undici minuti di trial omen. Tra undici minuti, tecnicamente, finisce e dovrei ottenere qualcosa. Non pensavo che avrei avuto difficoltà, cioè, con questa armatura. E quanti sono? Ne ho uccisi già 50. Ok, sì, mi ha dato la chiave. Benissimo. Ok, 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 togliamo la spazzatura, togliamo la spazzatura. Adesso devo trovare il volt dell'Ominus. E dov'è, però? Aspetta, innanzitutto posso fare questo avanzamento, vediamo. Sì, benissimo. Questo che volt è? Normale, chiave normale. Ok, ok, dai, prendiamola giusto per prenderla. E mi dà un'altra bottiglietta, meraviglioso. Credo che comunque mi sia capitato il dungeon facile. Anche questo è normale. Wind charge, ottime. Ma scusate, quante chance ho di trovare la mazza? Credo siano basse, comunque. Oh, oh, mi ha attivato un altro? Sì. Ciao! E chi sarebbero questi? Guardando le spade incantate addirittura. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Aspetta. Allora, c'è un Breeze. Ricordatevi che ho l'avanzamento di ucciderlo. Mamma mia, che casino! Aiuto! Muori, muori. No, 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 no. Questi sono potenziati, questi sono potenziati, magna. Anche il Breeze mi fa male. Allora, aspetta, lo attacco una volta, così lo indebolisco. E in questo modo dovrei riuscire a completare l'avanzamento. Vai, ok, l'ho preso. No, di nuovo, di nuovo, lo devo riprendere. Dai, attaccami piccolino. Non si capisce niente, è difficilissimo. Dai! Ok, qua c'è il coso. Questo mi serve. Dove è finito il Breeze? Eccolo. Dai, attaccami. Bene, preso. Vai, di nuovo, di nuovo, di nuovo, di nuovo, di nuovo. Attaccami, attaccami. Che finisca un altro avanzamento, ti prego. Dai, mannaggia, attaccami bene. Ok, ripreso. Un altro colpo. Dai, un altro. No, glielo devo tirare sotto i piedi. L'ho preso. Dai. Maledizione, quanto è difficile questo avanzamento. Dai. Ok, ce l'ho fatta. Bene. Benissimo. Adesso li posso tutti quanti uccidere normalmente. Ok, qua ne è andato un altro. No problem. Muori. Guarda quanti scheletri. Aiuto! È un esercito intero. No, qua se non sei bravo nei combattimenti, ti ammazzano veramente, eh? Cioè, sto prendendo tutto questo danno con un'armatura così tanto finale. Aiuto! Porca miseria. Oh, io quasi, quasi mi mangio la mela d'oro pitra un po'. Non pensavo sarebbe stato così difficile. Tutto questo soltanto perché ho attivato il dungeon. Con la bottiglietta. Ehi, pure il baby zombie. E muori. Guarda che sono potenziati. Per fortuna che l'armatura c'ha mending e non rischio di perderla. Allora, togliamo tutto ciò che non mi serve. Mamma mia, che figata. Dov'è, dov'è, dov'è il coso che mi serve a me? Aspetta. No, non è questo. Mi serve la cassaforte blu. La cassaforte blu. Dov'è? Era quassù, se non sbaglio. Sì, era quassù. Ok, mi ha dato un'altra chiave. Qua ci sono altri mostri, quindi ancora non ho completato questa parte di dungeon. O li uccido tutti. O non si apre il vault. Mannaggia. Sì, pure le trappole di fuoco. Allora, che facciamo? Ce ne deve essere qualcuno intrappolato perché non si è ancora spento questo. Qua c'è un'altra chiave. Ok, quindi quelli blu ti danno la chiave blu. Chiaro, chiarissimo. Dov'è l'altro mostro? Ce ne deve essere uno incastrato da qualche parte. Allora, facciamo al volo un check degli avanzamenti che mi mancano. Quindi, inserire la chiave è praticamente fatta. Dopodiché, dobbiamo riuscire a trovare la mazza. È l'ultimo avanzamento! Ok, spero di aver fortuna perché ho tre chiavi. Ricordatevi che l'unico modo per trovarla è aprendo queste. Ok, togliamo le grate e speriamo di avere fortuna. Il drop tecnicamente è molto basso, ragazzi. Mamma mia, speriamo bene. Vai, inserisci la prima. Avanzamento completato. Dammi la mazza. No, mi ha dato un'ascia. Maledizione, che me ne faccio. Fortuna 1. Va bene, va bene, va bene. Non demordo perché ancora abbiamo delle altre chiavi. E qua deve ancora finire sto dungeon. Perché non finisce? Dai, che questo poi mi dà un'altra chiave. Muoviti! Dove si è andato a incastrare il mostro? Qua giù? Diamante, ferro, ok. Qui ce n'è un'altra. Qua ce n'è un'altra. Ti prego, dammi la mazza. Mi serve solo quella. Melador OP. Wind charge, diamanti, corpetto. Niente. Però, corpetto protezione 2, thorns 1, breaking 3. Mica male. Lo butto perché non mi serve a nulla. Però, mica male. Ok, mi resta l'ultima chiave. L'ultimo tentativo. Bene, bene, bene. Eccolo. Era qui. Adesso che l'abbiamo ucciso, tecnicamente la situazione si dovrebbe sbloccare. E quindi mi dovrebbe dare... Esatto, un'altra chiave. Meraviglioso. Me la prendo volentieri. Ok, ok, ok. Prendiamo del cibo. Va bene. Devo andare a cercare adesso delle altre cassaforti blu. Eh, ma qua è un labirinto. No, questa è arancione. Proviamo a scendere da questa parte. Ecco, ci sono dei mostri, quindi. Sicuramente qua ne troviamo un'altra. Adesso. Dai, morite. Non mi fate perdere tempo. Via. Dai, mi manca l'ultimo avanzamento. Per piacere. Cioè, stavolta è stata una speedrun nell'1.21. Vabbè, ovviamente, ragazzi, ci ho messo molto meno tempo a fare questa. Perché è un update di combattimento. Ok. Il dungeon è finito. Non mi ha dato una chiave. Vediamo se qua su c'è un'altra vault. No, non è partito un'altra. Eccola, eccola, eccola. Bene. Allora, facciamo un mini ponte. Vai, vai, vai. Così, così, così. Inserisci la chiave e dammi la mazza. Per favore. Per favore. Per favore. No, 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 no. Non me ne faccio nulla di frecce e banner. Mi sa che sono finiti, ragazzi. Eh, i vaulti non sono mica infiniti. Mi sa che ce ne sono tipo tre o quattro per ogni trial chamber. C'è andata male a sto giro. Cioè, male, insomma. Perché comunque ho fatto tutti gli avanzamenti. Però ho ancora nessuna traccia della mazza. Ammazza, che sfiga. Muori. Qua che c'è. Frecce. Provo a completare anche questa stanza. Non lo so se si sblocca qualcosa, ma non credo. Cerchiamo di ottenere quante più chiavi possibili. Morite. Comunque, ragazzi, sono riusciti a renderlo difficile. Guarda, guarda, guarda. Cioè, sto morendo. Con l'armatura finale contro dei baby zombie. Ma è follia. Sono felicissimo. Sono felice che l'abbiano reso complicato anche per i player bravi. Ok, qua ci sono altri slime. Liberiamo anche questa stanza. Che magari mi becco un'altra chiave. Pozione di rigenerazione inutile. Ecco la chiave, bene. Qua c'è qualcosa? No. Ah, secondo me sono finiti, ragazzi. Non ci sono più vault. Ho avuto sfortuna. Eh, continuo a cercarli. Vediamo se magari ce n'è un altro nascosto da qualche parte. Allora, qui è da dove sono venuto. Ma l'ho già preso, questo? No, bene! Prendi la chiave, prendi la chiave. Ti prego. Questo è l'ultimo, ragazzi. Per favore, per favore, dammi la manza. Me la do roppi. Va bene, diamanti, ok. Balestra. No, non ci credo. È molto più difficile di quel che pensassi. Ok, ok, ok. Ho liberato tutto il dungeon. Non ci sono più vault blu da prendere. E quindi, ragazzi, direi proprio che me ne devo trovare un'altra. Però, ragazzi, in realtà non ci è andata assolutamente male. Perché innanzitutto siamo riusciti a completare tutti gli avanzamenti tranne uno. Quindi nel prossimo ci possiamo concentrare soltanto su questo. E inoltre... Fermo, non mi interrompere mentre parlo con i miei fan. E inoltre abbiamo già una chiave pronta e anche una bottiglietta pronta. Devo soltanto trovare un'altra mappa delle trial chambers e sperare di ottenere la mazza per finire l'ultimo avanzamento. Io, ragazzi, mi sono divertito un mondo. Ci voleva un bel dungeon difficile come questo. E soprattutto, adesso, so cosa fare nell'Imperocraft. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un mi piace e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ma prima, ammazziamo sti imbecilli che provano a disturbarmi. Muori! Muori! Ciao!